Vi avevo chiesto come esercizio di provare a sostituire i due arredi interi che definiscono le coordinate x, y dei vertici del poligono con un arredi di struct punto, ho definito questo poligono 2 e se ci pensate la dichiarazione di un arredi di struct segue le stesse identiche regole dei tipi predefiniti, semplici come interi. Se avessimo voluto dichiarare un arredi interi avremmo messo qua int o double o string a seconda delle esigenze. Pensate al nome della strat come ho sottolineato tante volte come al nome di un nuovo tipo e quindi è un arredi vertici di oggetti di tipo punto. Per andare poi a memorizzare o ad estrarre informazioni dai componenti interni ricordate si parte sempre dall'esterno e si procede verso l'interno. Vediamo il metodo perimetro riprogettato per utilizzare questa struct. E fatto il confronto con quella vecchia abbiamo già un guadagno di codice perché è evidentemente più corto. Non solo, è anche più intuitiva da capire. Infatti non dovremo più essere noi a costruire i punti da passare poi alla funzione che calcola la loro distanza perché le abbiamo già pronti all'uso. Infatti al risultato in cui stiamo accumulando le distanze tra i punti dai vertici aggiungiamo la distanza tra quali punti? Si parte dal contenitore esterno, si diceva, il poligono 2. Questo che cos'è? È un array? No, è una struct. Prima di tutto è una struct. Quindi non si potrà che proseguire che con la notazione punto per accedere ai componenti interni di questa struct. A quale componente? Vertici, l'array. Questo è un array, quindi non si potrà proseguire se non con la specifica dell'indice tra parentesi quadre. Voglio quindi il diesimo punto per calcolare la sua distanza dal punto successivo. P, punto vertici, in posizione i più 1. Adesso voglio vedere proprio chi ha coraggio di sostenere, particolare che non merita davvero di passare in osservato. Ho chiamato perimetro anche questa funzione, non per errore, ma perché in C++ abbiamo la possibilità, si chiama overload, lo scrivo, che ci consente di chiamare lo stesso modo due funzioni, poi parleremo anche di metodi quando parleremo di classi, a patto che la signature sia diversa, cioè che cambi qualcosa nell'intestazione delle funzioni. Potrebbe cambiare il tipo restituito, un int e perimetro, potrebbe cambiare, come in questo caso, anche soltanto il tipo dell'unico parametro. Cos'è che distingue per il compilatore questa funzione da questa? Il fatto che la nuova riceve come parametro un poligono 2, che come tipo considera diverso dal vecchio poligono. Avrei dovuto avere anche qua un poligono 2, però avrei dovuto aggiungere qualcos'altro, quindi un secondo parametro, per differenziare in qualche modo, come si diceva, le due signazioni. le due intestazioni. Overload, sovraccarico, dà proprio il senso di avere lo stesso identificatore, perimetro, sovraccaricato di diversi significati. Andiamo anche a dare un'occhiata al main, dove ho commentato il vecchio codice, per non fare confusione. Qui ho dichiarato un oggetto quadrato di tipo poligono 2, ho sfruttato una lista di inizializzazione per dare un valore ai componenti. Le grafiche esterne definiscono la struct, 4 è il numero dei lati, virgola, poi quest'altro livello di parentesi graffe servono per definire un array e all'interno le coppie di valori che verranno assegnati agli elementi, come inizializzazione, di queste array che sono delle struct e che richiedono quindi un numero preciso, 2 in questo caso, di valori per inizializzare. Punto 0, 0, saliamo in verticale, punto 0, 1, poi spostiamoci a destra, punto 1, 1, poi scendiamo ancora sulla stella X, 1, 0, e ritorniamo al punto di partenza, cioè l'origine. Per sotto, come commento, la sintassi che avrei dovuto utilizzare per o inizializzare direttamente le componenti X ed Y, oppure tramite una lettura da tastiera col c. Si parte dal contenitore esterno, il quadrato, il poligono 2, è un abstract, per forza il punto, se poi scrivo vertici abbiamo raggiunto qualcosa che è un array e quindi per forza poi con le quadre. Questo singolo elemento adesso è a sua volta un abstract di cui voglio utilizzare il suo componente X o Y. Sono adesso ritornato sulle due versioni del metodo perimetro perché la situazione è troppo ghiotta per lasciarsela scappare, è perfetta per introdurre una caratteristica interessantissima del C++. Immaginate di aver bisogno di introdurre anche versioni più precise nei calcoli delle attuali abstract che utilizzano degli interi, usando dei float, poi magari anche dei double, o per calcoli molto precisi, ma da usare soltanto quando ce n'è veramente bisogno, questa precisione, per non sprecare spazio, o delle versioni con dei punti con dei long double X, long double Y, si passa da 4 a 8 a 12 byte. Ne consegue che dovremmo avere diverse versioni di punti, poligoni e di altrettante funzioni per il calcolo del perimetro, uno che accetta i poligoni con gli interi, un altro che accetta i poligoni con i double, float, long double, eccetera. Se ci pensate però, al di là del tipo P che cambierebbe di volta in volta, le operazioni che poi si andrebbero a comandare sono le stesse, sono coerenti. Sì, tra parentesi dovrei avere anche diverse versioni del distanza tra punti, altrimenti perderei la parte decimale nel calcolo, perché le coordinate double verrebbero troncate per essere trasformate in int con l'attuale versione. Ma, di nuovo, il ragionamento è valido anche per la distanza tra punti, cambia il tipo delle coordinate, ma l'algoritmo che calcola la distanza è sempre quello, radice quadrata 10, eccetera. Beh, sapete che facciamo? Un bel commentone di questi due, tre, quattro, dieci funzioni molto simili, e le andiamo a sostituire con un'unica versione, una invece di 10 interessante, no? Che utilizza i cosiddetti template. Ci torneremo, perché questo è proprio un primo approccio, template. Abbiamo sostituito nella funzione perimetro, ad un tipo specifico, poligono, poligono 2, un nome generico, che ho indicato qua con T, potevo usare qualunque altra lettera. Perimetro riceve un parametro P di tipo T, e con questa dichiarazione attivo il meccanismo dei template, che dice, guarda, preparati ad accettare al posto di T un qualunque altro nome di tipo, un type name. Io ti sto implicitamente assicurando che le istruzioni che poi andrò a comandare, a usare con questo tipo T, sono fattibili. E sarà il compilatore, a seconda dell'utilizzo che farò in quel codice, a generare tante versioni di questo perimetro. Quindi, attenzione, non è al di là di alcune ottimizzazioni interne, poi non è che ci sia veramente una sola versione internamente di perimetro. Per noi, nel codice che rimarrà semplice e pulito, ce n'è una sola, poi ci penserà il compilatore a generarne più di una. Faccio un esempio, se in questo programma, in questo main, dovessi fare due chiamate a perimetro, uno con i punti con gli interi e uno con i punti con i double, lui, per questo programma, per questo codice, andrebbe automaticamente a generare due versioni del perimetro, come se le avessimo scritte noi. Se invece in questo programma, in questo main, utilizzassi solo la versione del poligono con le coordinate intere, genererebbe il compilatore soltanto il codice corrispondente alla versione con quel tipo di parametro. Applichiamo allora la stessa medicina anche alla funzione distanza tra punti e a quella che calcola il punto meglio, se volete. Ma non dimentichiamoci che anche qua dobbiamo applicare il template, restituisce un tipo non punto, ma di tipo t, e anche qua return t. E intanto vediamo come il tutto funzioni nella stessa situazione di prima usando un poligono di tipo poligono 2. Proviamo ad eseguire per ritrovare il nostro 4. Proviamo a vedere se il tutto si adatta quando, come coordinate, mettiamo dei valori tipo double. E qui qualcuno starà pensando, ma quel giochetto lì, che abbiamo applicato alle funzioni, per renderle parametriche rispetto a un tipo, non è che potremmo anche applicarlo ai tipi stessi, perché in fondo adesso quello che sto facendo è sostanzialmente duplicare la struct punto, chiamarla, non so, punto D per dire che è un double, e qui al posto di int ci metto double, ma la struttura è la stessa, no? Un po' come prima l'algoritmo è lo stesso, qua sostanzialmente, al di là di questa differenza di tipo, le due strutture sono identiche. Sì, la risposta è sì, si può rendere parametrica anche una struct, ma ne parleremo magari la prossima volta. E di nuovo non è una cosa da poco, perché invece di un proliferare di n versioni di struct leggermente diverse, avremo la specifica di un template e poi un solo spezzone di codice che dichiara quel tipo di struct. al di là della sostituzione del tipo che di volta in volta farà il compilatore al posto nostro, generando diverse versioni, ma facendone vedere a livello di nostro codice sorgente una sola. Adesso invece soffriamo, andiamo di copia e colla noi, con tutti i rischi del caso, di errori, incongruenze, e dichiariamo una poligono 2 ld, che è quella che invece di avere l'array di punto, ha un array di punto, perdon, di non ld, ha un array di tipo punto d. Quindi adesso le coordinate di ciascuno dei vertici di questo tipo di struct potranno essere specificate con un valore double. Andiamo nel main, poligono 2 double, e quindi qui potremmo mettere, non so, 0.2, non è più un quadrato ovviamente, è un poligono tipo diverso, quindi cambiamo magari anche il nome. poli, poi 0.9, 1.4, dai va bene, infine mettiamo qua poli, perimetro di poli, per avere un risultato che chiaramente non è più un numero intero, ma il tutto funziona. Qualcosa mi dice che state friggendo. Dai, vi mostro anche come sfruttare i template nella definizione di una struct, e quindi far funzionare senza problemi è anche una dichiarazione di questo tipo, quello stesso poligono 2, che prima rappresentava semplicemente un contenitore con i vertici a coordinate intere, e adesso renderlo capace di accettare dei double, e quindi di utilizzare automaticamente la versione del punto che sfrutta i double. Andiamo all'extract. La struct punto deve diventare parametrica rispetto al tipo delle coordinate, quindi non più fisso int x, ma mettendo qua la specifica template, dove t rappresenta il nome di un tipo, la struct contiene un tx e un ty, poi al momento dell'utilizzo reale dovrò specificare cosa mettere al posto di questo t int, se mi si interessa int, e double se mi interessa double. A seguire potete tranquillamente commentare la versione con i double del punto e del poligono, non serviranno più. Infatti, poligono 2 stessa diventa una struct contemplate, dove il tipo dell'array, o meglio la variante del punto contenuto nell'array, potrà essere specificata al momento della dichiarazione di oggetto poligono 2, indicando il parametro double o int, a seconda che si voglia un poligono con le coordinate intere o double, per cui il tipo t che indicheremo con poligono 2, verrà utilizzato anche come parametro in ingresso alla struct punto, in modo che sappia di che tipo esatto rendere disponibili le coordinate. Chiudiamo il cerchio andando nel main, che c'era un particolare che avevo nascosto qua. Poligono 2 è una struct parametrica, a t dentro, che deve essere specificato. Tra parentesi e angolari indico il tipo double che voglio usare per questo poligono 2, un po' come se fosse il parametro di una funzione, e in questo senso è un tipo parametrico, perché alcuni particolari vengono specificati all'atto della definizione in questo modo. Questo double è quello che corrisponde in poligono 2 a questo t, per cui è come se avessimo scritto, ma lo farà in automatico il compilatore per noi, la versione di questo poligono 2, dove al posto di questo t, ci sarà quindi un double. Ma double che cos'è? È il parametro che a sua volta viene passato al template per il punto, questo t. e questo diventerà un double x e un double y. Ecco perché non ci sarà nessun problema ad accettare la stessa lista di inizializzazione di prima che fa utilizzo dei double. Grande. Non abbiamo più 10 versioni diverse delle stesse funzioni, e 10 coppie diverse, punto per gli interi, poligono per gli interi, punto con i double, poligono con i double e così via. Un solo metodo per il calco del perimetro, una sola coppia, punti poligono. E scusate se è poco. Ecco, in realtà io avevo iniziato a parlare di punti col double o long double, perché volevo arrivare a dichiarare, per motivi di efficienza, come abbiamo più volte discusso in precedenza, a creare in modo dinamico dell'estract, o comunque a passare invece della coppia di una certa struct contenente una parte pesante di dati, un suo puntatore, per vedere come, usando i puntatori, cambi la sintassi per accedere ai componenti interni di un abstract. Poco male, torneremo sull'obiettivo la prossima volta, anche perché in questo modo, nello stesso video, potremo parlare sia di puntatori abstract, e anche di una loro interessantissima applicazione, cioè le strutture dati concatenati, quindi liste e alberi. Anticipo che non lo farò in modo pesante, perché poi abbiamo a disposizione tutta la template library, template, sapete cosa significa, che è in grado di funzionare con diversi tipi di dati, ma i programmatori che l'hanno scritta, usando i template, hanno risparmiato un fracco di codice. E dicevo, già lì troviamo dei contenitori, delle collezioni molto efficienti, implementate da maestri della programmazione, proprio per implementare strutture dati, come le liste e gli alberi, che però, dal punto di vista algoritmico, sono troppo importanti per trascurarle. Ed è per questo che dedicherò loro alcune lezioni. A risentirci.